L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del centro dei cartomanti europei, chiama allo 0773 49 36 60. Ariete Discussioni in famiglia, un acceso scambio di opinioni farà emergere attriti che non erano ancora venuti in superficie, ma il confronto potrebbe essere la volta buona per appianare una serie di divergenze che non hanno motivo di esistere. In amore giocherete con estrema intelligenza le vostre carte. Toro Piacevoli sorprese in arrivo, un incontro inaspettato cambierà la vostra giornata e vi regalerà un sorriso e il buon umore. In amore dovrete riconsiderare le vostre convinzioni. Gemelli Farete meglio concedere una possibilità, la tendenza a non lasciare neanche uno spiraio di dialogo potrebbe ritorcersi contro di voi nel momento in cui avrete bisogno. Evitate inutili paternalismi e siate concreti. In amore non dovrete far nascere un inutile antagonismo con la persona amata. Cancro Dovrete abbandonare la partita, un paio di errori di troppo vi hanno costretto ad esistere, ma i danni saranno trascurabili. Dovrete tenere a bada la frustrazione che vi rischia di rivelarsi addosso anche alle persone che vi vogliono bene e che non ne hanno colpa. In amore terrete duro sulle vostre posizioni senza cedere. Leone Avrete un obiettivo e ben preciso da raggiungere. Rischierete di trascinare alcuni compiti importanti e questo potrebbe comportare qualche attrito in ambito lavorativo. La vostra capacità di mediazione vi impedirà di far degenerare una piccola discussione. In amore vi sentirete felici ed appagati da ciò che viverete. Vergine Una scelta si avvicina. Vorreste delegare volentieri il compito che vi attende, ma sapete che è solamente a voi che aspetta e dovreste affrontare il momento della decisione il più presto possibile. Chiederete consigli a una persona in cui vi fidate ciecamente e troverete l'aiuto necessario. In amore vi rivelerete scostanti. Bilancia Sarete pronti ad affrontare una novità che in realtà stavate aspettando già da tempo. Farete bene a non volare eccessivamente sulle ali dell'immaginazione. Rischiare una mossa sorpresa potrebbe risultare decisivo per la conclusione di un affare. Ponderate bene i pro e i contro. In amore la vicinanza della persona amata vi farà battere il cuore. Scorpione Mischierete le carte in tavola, organizzerete un caos ordinato di cui capireste soltanto voi le reali intenzioni che vi spingono. Dovrete cercare di lavorare con calma senza perdere la lucidità perché in questo momento il vostro apporto è fondamentale. In amore cercherete di mostrarvi dolci e comprensivi. Sagittario Giornata di scelte importanti dove verrete messi alla prova da una persona a voi molto vicina. Lasciate la scelta al cuore. In amore cercate di restare con i piedi per terra. Sognare è pericoloso. Capricorno Vi sentirete stanchi e spossati e sul lavoro non mancheranno le critiche ma dovrete trovare la forza di replicarvi. In amore è arrivato il tempo di tirare le somme su una situazione in sospeso. Acquario Segnali di miglioramento su tutti i fronti. In ambito lavorativo vivrete una giornata tranquilla all'insegna della routine e della programmazione. La famiglia riserverà una quieta quotidianità che trascinerà le ore fino a una serata senza sussulti. In amore vetierete di trovare punti di attrito con il partner. Pesci Non abbattetevi. Alcune persone hanno bisogno di voi. Come punto di riferimento dovrete stringere i denti. In amore sarà una giornata di piccole incomprensioni. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.it L'oroscopo è stato offerto di attività 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 di attiv